Sì, ho visto ieri sera l'ambulanza ma non sapevo niente, ho detto vabbè, forse si è sentito male. Sono tre le persone rimaste intossicate e in questa abitazione alle mie spalle siamo in piena campagna a Retina, la frazione di Tegoleto, comune di Civitella in Valdichiana. La richiesta di aiuto è arrivata intorno alle 20.30, sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Tre le persone rimaste intossicate, una donna di 80 anni, un uomo di 60 e un ragazzo di 27 anni. L'uomo e il ragazzo sono stati poi trasferiti in camera iperbarica a Firenze. La donna è rimasta qui da noi al pronto soccorso e la teniamo in osservazione. Due uomini, avendo avuto un'intossicazione di maggiore entità, li abbiamo trasferiti a Careggi per eseguire la camera iperbarica che è necessaria in questi casi di trattamento. Direi che sono fuori pericolo. Nell'abitazione i vigili del fuoco hanno riscontrato la presenza di una stufa a legna e di una caldaia. Sono in corso le indagini e i controlli per capire le cause dell'intossicazione. Intanto arrivano le raccomandazioni per questi casi. Quando il paziente se ne può accorgere, perché il vero problema è lì, i sintomi sono la nausea, la cefalea, una cefalea inspiegata, una debolezza, una stanchezza, le vertigini, che chiaramente poi piano piano aumentano fino ad arrivare a uno stato di soppore e quindi a quel punto lì purtroppo il paziente non se ne accogge. È chiaro che se l'intossicazione avviene durante la notte e il problema principale è quello i pazienti non se ne accorgono. D'altra parte noi sappiamo che l'ossido di carbonio è in odore, in colore e quindi è una sostanza che non è percepibile purtroppo dai nostri sensi. Quindi stare attenti a questi sintomi e che cosa fare? Cioè areare i locali, quali sono le azioni? La prima cosa da fare è se uno degli intossicati, il solo oppure in più di una persona, si accorge e ha questa sensazione strana, sapendo di essere in una condizione che lo può mettere a rischio, sappiamo che le condizioni sono quelle dei cammini accesi, delle stufe, dei motori di autoveicoli in ambienti chiusi, la prima cosa da fare è areare completamente l'ambiente e quindi già quella è una buona condizione al di là dell'intossicazione che si può avere avuto. Chiaramente le intossicazioni ci sono di varia gravità, è chiaro no? La carbossia emoglobina nella persona normale arriva fino al 5%, poi quando si arriva su un 10-15% l'intessocazione è di tipo moderato, oltre il 25% si parla appunto di intossicazione grave e quindi questi, oltre che la terapia con ossigeno ad alta concentrazione al 100%, necessitano anche di pressioni maggiori e quindi fanno la camera perbarica. Se c'è un paziente che ha perso i sensi, è chiaro, un laico lo può mettere nella condizione di sicurezza, ma non fare di più a meno che non si tratti già di un arresto cardiaco, perché purtroppo può succedere anche questo. E poi niente, si aspetta il 118, si porta. Per noi la diagnosi è abbastanza facile, una volta sospettato abbiamo l'emogassanalisi che ci dice quant'è la percentuale di carbossia emoglobina e quello è, il gioco è fatto. L'importante è pensarci, però il gioco è fatto. La diagnosi è abbastanza semplice.